Musica Finisce 2 a 2 l'anticipo della tredicesima giornata andato in scena tra Belluno e Giorgione. Una partita ricca di intensità giocata con il cuore da entrambe le squadre, che però alla fine si sono dovute accontentare di un punto a testa. Partenza bruciante della squadra di casa che spinge con convinzione sulle fasce e in appena 15 minuti confeziona un 1-2 capace di stendere un elefante. Ad andare in gol per primo è Corbanese, servito splendidamente in area d'Achka. Troppo facile per lui ribadire la palla in rete, in una azione nella quale però bisogna registrare anche qualche colpa della difesa bianco-rossa. Il raddoppio arriva appena 10 minuti più tardi. A firmarlo di testa ci pensa Duravia, su un cross millimetrico che arriva dalla destra, direttamente dai piedi di radrezza. Dopo qualche minuto di sbandamento la squadra trevigiana è brava però a reagire e gli sforzi dei ragazzi di Mister Esposito vengono premiati a fine primo tempo. Il 45esimo è scoccato da appena un minuto, quando Campagnolo è bravo ad infilarsi nelle retrovie del Belluno e ad infilzare con il giusto tempismo Rossetto. Si va quindi negli spogliatori con il Belluno in vantaggio, ma con un Giorgione più vitale che mai. La ripresa è tutta di marca bianco-rossa. La squadra di casa si chiude e arretra, lasciando così spazio al Giorgione che può guadagnare metri e piano piano stringe da sedio la truppa in maglia bianca. Il pareggio arriva così inevitabile al trentesimo del secondo tempo. Gran botta dai 30 metri di Vianello, che trova l'angolino basso alla destra di Rossetto, dove il portiere del Belluno non può proprio arrivare. Il 2-2 è servito. Negli ultimi minuti a prendere il sopravvento è soprattutto la stanchezza e il tabellone non regala altre emozioni. Ma andiamo a sentire le impressioni dei due mister ai nostri microfoni, Roberto Raschi e Stefano Esposito. Dispiace, dispiace soprattutto perché abbiamo preso un gol proprio nel recupero del primo tempo, che sono cose che si dovrebbero evitare, su una leggerezza. E dopo forse sicuramente abbiamo gestito con una certa pressione psicologica la ripresa. Abbiamo subito un gol su una deviazione netta, un po' sfortunata e dispiace aver preso una partita che secondo me, per quello che abbiamo fatto, non abbiamo meritato di vincere. Siamo partiti male, cosa che non ci aspettavamo, visto che volevamo partire molto forte. Poi siamo stati bravi a rimanere in partita e a riprenderla con le unghie, meritandocela piena, anzi avendo più occasioni per vincerla. Un punto a testa quindi per Giorgione e Belluno, un punto che non risolve i problemi di queste due squadre, ma che, in attesa dei risultati delle dirette rivale, gli consente almeno di ricominciare a camminare. Grazie a tutti.